buonasera a tutti sono le ore 18 di mercoledì 24 ottobre eccomi qui in diretta io mi devo subito scusare per l'assenza di ieri devo dire negli ultimi tempi sono un pochino meno regolare nelle mie dirette quotidiane però eccoci qui in diretta da roma in questo momento vi chiedo come al solito di piggiare sulla freccetta condividi che vedete lì per poter appunto invitare quante più persone possibile a questa nostra diretta e poi saluto graziella mantovani che si è già unita a noi e naturalmente potete piggiare la freccetta anche sul video che resterà poi dopo la diretta sulla mia pagina youtube sulla pagina facebook e sul sito ivanscalfarotto.it ma veniamo noi e quello che volevo segnalare innanzitutto va bene lo spread in questo momento 322 sapete che c'è stata la lettera da parte della commissione europea che naturalmente ci ha detto che la manovra non va bene non è una grande novità devo dire qualche giornale questa mattina si chiedeva addirittura se il momento 5 stelle la lega non avessero in realtà voluto che ci fosse questa bocciatura e se non si stia cercando di portarla anche un po in lungo per poter utilizzare la bocciatura dell'unione europea diciamo così per finalità elettorali quindi alzare la temperatura dello scontro per poterla poi rivendere sul mercato elettorale in vista delle elezioni europee in realtà quello che preoccupa più ancora delle reazioni dell'europa sono le reazioni dei mercati dicevo spread a 322 ma abbiamo visto che qualche giorno fa era anche più alto giorgetti il sottosegretario alla presidenza del consiglio che peraltro è persona diciamo così di grande equilibrio insomma almeno confrontato con i suoi colleghi risulta essere di grande equilibrio ha detto mi pare proprio in televisione che se lo spread dovesse arrivare a 400 si dovrebbe intervenire sulle banche e quindi devo dire questo sarebbe una prova piuttosto divertente perché divertente tra virgolette naturalmente sarebbe drammatico perché dopo aver insistito molto sul nostro salvataggio sul salvataggio che noi il nostro governo ha fatto per le banche evidentemente per salvare risparmiatori e dipendenti ed evitare che ci fosse un crack vedere loro alle prese con problemi con le banche causati tra l'altro da loro stessi perché diciamoci la verità questo spread così elevato deriva esclusivamente dalle dichiarazioni prima dei vari esponenti del governo e oggi dalla compilazione di questa manovra che evidentemente solleva molti molti problemi e quindi vedremo che cosa che cosa succederà tra l'altro sapete che mudis già declassato ci sarà credo standard e pursa anche che dovrà prendere una decisione sulla eventuale declassamento e rischiamo di andare proprio soltanto a un gradino dal da quelli che si chiamano junk bonds cioè dai dei titoli spazzatura nel momento in cui i titoli italiani dovessero essere classificati come tali sarebbe un grandissimo problema perché una serie di istituzioni fondi fondi pensione ma la stessa banca centrale europea non potrebbe continuare a sostenere il nostro debito e non potremmo addirittura neanche chiedere soldi all'europa per i progetti infrastrutturali quindi una vera e propria disgrazia il paese balla su una corda tesa nel vuoto e nel frattempo succedono però cose che ci fanno vedere dei primi segnali di cedimento nei confronti di questa maggioranza che fino ad oggi sembrava così popolare devo dire già qualche studio fatto con attenzione sui risultati del trentino dove lo dico subito non è che il pd abbia fatto un grande risultato e voglio mettere subito le mani avanti però visto che i sondaggi non ci premiavano non c'è sorpresa però l'exploit della lega osservato da vicino e cioè confrontati i dati della lega alle ultime elezioni trentine quelli di un paio di giorni fa con di domenica con le elezioni politiche in realtà la lega non si è mossa particolarmente quindi qualcuno si chiede se poi questi sondaggi che danno la lega sopra il 30 per cento siano accurati oppure no o se non ci sia un effetto inflattivo dovuto forse anche alla sovraesposizione di salvini e quindi al grande numero di notizie che si agitano intorno alla lega ma poi devo dire oggi era interessante vedere che c'è stata una contestazione contemporanea praticamente anche se in due luoghi diversi sia contro salvini che contro il movimento 5 stelle ne parla in particolare il sito con dettagli sito di repubblica salvini oggi è stato a roma per la vicenda terribile sapete di desiree questa ragazza trovata morta e poi risulta essere stata addirittura appunto prima di essere uccisa di essere stata violentata sessualmente quindi una cosa orribile salvini naturalmente si è venuto qui a roma per diciamo testimoniare la sua presenza sempre modo suo diciamo con i toni che gli conosciamo e devo dire che è stato accolto da contestazione da gente che l'ha chiamato sciacallo insomma lo hanno contestato in modo particolarmente pesante nel frattempo c'era stata una contestazione al consiglio regionale di genova dove i lavoratori del terzo valico hanno che una grande opera che toninelli ha messo in stand by i lavoratori appunto presenti al consiglio regionale della della liguria hanno detto noi non vogliamo sussidi vogliamo lavorare e vogliamo che queste opere vengano portate avanti e vengano concluse quindi devo dire non che questo rappresenta adesso un'inversione di tendenza clamorosa però evidentemente ci sono delle cose che cominciano a non filare in modo assolutamente corretto e io credo che soprattutto gli effetti poi che vedremo della manovra economica probabilmente saranno rappresenteranno dei grattacapi per i nostri per i miei colleghi parlamentari di 5 stelle della lega devo dire che problemi ne hanno anche altri in queste ore al senato si sta votando questo decreto sicurezza chiedo scusa sta votando questo decreto questo disegno di legge relativo alla legittima difesa sempre cose di salvini sempre cose del ministero dell'interno e sapete che ci sono alcuni parlamentari di 5 stelle che hanno presentato importanti emendamenti e che non intendono sostenere alcuni alcune parti di questo disegno di legge in particolare ricordate il comandante de falco quello di schettino che adesso il senatore di 5 stelle o paola paola nuñez hanno presentato questi emendamenti non intendono ritirarli e naturalmente la maggioranza al senato è molto più sottile di quelle della camera e quindi un'eventuale defezione di una parte dei parlamentari 5 stelle costituirebbe sicuramente un problema alla camera invece stiamo facendo discussione generale sul decreto appunto genova e naturalmente lì c'è tutta la questione relativa al mega condono edilizio che si sta avendo su ischia sapete case abusive e che hanno subito danni che sostanzialmente verranno condonate tutte in un modo mai visto mai visto prima e la cosa che stupisce che questo intervento avvenga soltanto su ischia nonostante ci siano anche altri posti ahimè in italia che hanno subito degli eventi sismici l'attenzione al momento 5 stelle per qualche motivo sarebbe interessante saperlo statuta sul collegio diciamo di ischia e dintorni questa è la situazione ahimè una situazione estremamente complicata sembra che comunque il governo non faccia marcia indietro di nessun genere vanno dritti purtroppo è triste dirlo ma sembrano andare dritti verso il muro e peccato che nel treno ci siamo tutti quanti noi cioè ci sia il paese come sapete noi nel frattempo stiamo lavorando io nel frattempo sto lavorando sulla creazione dei nostri comitati di azione civile e quindi evidentemente approfitto di questa mia diretta per darvi qualche altra informazione anzi anche eventualmente per rispondere qualche domanda vedete che ogni tanto sposto lo sguardo dall'obiettivo perché cerco di tenere sotto controllo quelle che sono i vostri messaggi quindi se avete domande sui comitati vi rispondo volentieri vedo barbara vecchietti che si è grazie alla mantovani sono due delle promotrici delle prime promotrici dei comitati stiamo lavorando ancora sulla piattaforma internet i primi promotori che sono entrati si sono registrati hanno già ricevuto una mail di autentica della loro registrazione ma stanno aspettando di poter entrare nella parte diciamo così riservata ai comitati questo potrà accadere da lunedì quindi lunedì tutti i promotori di comitati che si sono registrati riceveranno le credenziali per entrare nell'area riservata del comitato a questo punto una volta entrati nell'area riservata del comitato si potranno iscrivere le altre persone gli altri aderenti al comitato di azione civile ricordo che per completare il processo di registrazione nel comitato bisogna che cinque persone quindi il promotore e almeno altre quattro abbiano completato la procedura di registrazione quindi l'attesa sta per finire vi ricordo che per potersi registrare il sito ha un dominio che è www.comitati ritorno al futuro.it lo ripeto www.comitati ritorno al futuro.it quindi troverete la pagina crea un comitato e potete fare immediatamente la vostra registrazione ripeto poi da lunedì si potrà entrare nella parte riservata e per poter inserire il nome e le generalità insomma degli altri degli altri aderenti sapete che ci sono sette argomenti particolari quindi i comitati non sono un partito lo dico chiaramente mi è stato chiesto più volte anche dei giornalisti renzi si sta facendo un partito la risposta è no non c'è un partito perché un partito i partiti naturalmente si occupano di tutto hanno programmi generalisti questi comitati si concentrano soltanto su sette cose che sono cose che non appartengono a nessun partito non appartengono al pd non appartengono naturalmente a un pezzo del pd appartengono a tutti perché a tutti appartiene l'europa a tutti appartiene il sapere la conoscenza che si contrappone alla superstizione che questo governo premia l'abbiamo visto con i vaccini a tutti appartiene la libera informazione a tutti appartiene il vero la verità che va contrapposta a ciò che diventa virale le fake news a tutti appartiene una crescita sostenibile che si contrappone all'assistenzialismo che ci viene che ci viene proposto insomma i valori sette valori che i comitati di azione civile vogliono proteggere sono valori che prima ritenevamo fossero condivisi da tutti e ahimè da 4 di marzo anzi dal primo di giugno quando è arrivato il nuovo governo sono diventati misteriosamente come dire dei target sono stati messi nel mirino dal governo e questo minaccia di trasformare roma in budapest diciamo diciamoci la verità comitati di azione civile quindi servono a questo servono a chiamare a raccolta i cittadini di buona volontà intorno a quelle regole democratiche che appunto fino a ieri consideravamo patrimonio di tutti perché la politica appunto era quella cosa che si divideva sui contenuti ma che si univa sulle regole e invece oggi siamo qui a dover difendere cose come la democrazia rappresentativa difendere la presidenza della repubblica difendere la presidenza della rai difendere la presidenza della consob quindi delle autorità indipendenti delle autorità di garanzia che sono appunto sotto attacco siamo stati accusati di aver lottizzato la rai ma io non so se voi avete presente che questo governo sono ormai mesi che sta cercando di nominare i direttori dei telegiornali e non riescono perché continuano a tirarla lunga pare che 5 stelle voglia giuseppina paterniti al tg1 e la lega non voglia giuseppina paterniti al tg1 quindi sul nome della povera giuseppina paterniti stiamo portando avanti la vicenda della rai da mesi e quindi all'anima della meritocrazia e della trasparenza e del metodo innovativo stanno letteralmente facendo scambio di poltrone di questo di questo si tratta quindi nessuna novità per cui io penso che sia importante lo ripeto fare in modo che roma e l'italia non si trasformino in una democrazia illiberale come dice orban perché questo è evidentemente il piano quindi i comitati di azione civile servono a fare poche cose cioè difendere quei cardini della nostra vita democratica della nostra comunità nazionale che abbiamo sempre considerato essere tali e che oggi purtroppo sono sotto attacco io sono a disposizione naturalmente per ogni domanda le potete lasciare qui le potete lasciare su facebook sto rispondendo a moltissime mail messaggi su messenger commenti che lasciate sui miei post tra l'altro abbiamo aperto anche una pagina pubblica di facebook appunto sui dei comitati per cui andate a visitarla e naturalmente mettete like io direi che mi fermo qui perché sono le 18 14 sapete che cerco di stare sempre nel quarto d'ora per non diventare troppo lungo mi scuso ancora perché in questi giorni stondendo a singhiozzo sto andando a singhiozzo anche domani saremo in aula quindi spero di riuscire a trovare il tempo ma non lo posso assicurare quindi tenetevi aggiornati sulla mia pagina per sapere se ci rivedremo io come al solito vi chiedo di pigiare su questa freccetta dove c'è scritto condividi perché tra pochi minuti questo video resterà sulla mia pagina facebook sul canale youtube e sul sito www.ivanscalfarotto.it la domanda difendere come i comitati si riuniscono e poi questa è una domanda allora mi fermo e rispondo a elisabetta bilotti i comitati saranno molto quindi chiedo scusa se faccio apro una porticina per elisabetta ma la domanda forse merita di avere una risposta i comitati avranno anche molta autonomia per potersi inventare delle cose per poter essere proattivi non dovranno essere soltanto dei ricettori di istruzioni dal centro dal centro noi cercheremo di dare ai comitati contenuti sui vari sui sette valori di dare idee di anche proporre azioni come quella che io cito sempre ricordate quando all'odi è venuta fuori la storia dei bambini stranieri separati dai bambini italiani c'è stato un gruppo di nostri concittadini credo di tutte le fedi politiche i quali davanti a una situazione di apartheid si sono messi le mani in tasca e hanno pagato per quei bambini davanti all'apartheid una reazione civile per combattere una discriminazione ecco questo è esattamente quello che penso che dovranno fare i comitati di azione civile ogni qualvolta si verificherà una violazione di questi nostri sette valori fare delle cose pratiche delle campagne delle azioni che possano servire a difendere questi capisaldi della nostra vita comune cosa succederà lo vedremo strada facendo ma se un'idea verrà dal comitato che sta sull'appennino tosco emiliano o del tavoliere delle puglie potrebbe essere che l'idea che viene da quel comitato possa essere l'idea che applichiamo tutti quindi john kennedy diceva piuttosto che pensare cosa il paese può fare per noi proviamo a pensare cosa possiamo fare noi per il paese ecco i comitati io non vorrei che fossero appunto soltanto dei luoghi dove si aspettano istruzioni da roma o da milano ma fossero dei luoghi dove si elabora dove le persone che si incontrano trovano idee trovano modalità di partecipazione sono uno spazio che non è una caserma è uno spazio dove ci sono ci saranno tante persone che hanno in comune appunto questi valori e che ciascuno con il proprio intelletto la propria fantasia la propria volontà troverà come difendere noi faremo soprattutto dal centro un'opera di coordinamento di scambio di buone pratiche o di idee o suggeriremo delle cose ma ascolteremo anche tantissimo quindi non c'è diciamo una ricetta sempre per rispondere a questa domanda immediata le cose le faremo insieme anche collaborando appunto non in una posizione gerarchica sicuramente quindi spero di aver risposto e quindi ho preso il tempo supplementare 18 17 il pippone diciamo finale l'ho già fatto vi chiedo sempre di cliccare e spero di vedervi domani o al più tardi dopo domani a seconda di come va l'aula sempre un piacere vedervi vi saluto tutti e 48 vedo che siete 48 in diretta ci e vi auguro naturalmente una buona serata per i tifosi del napoli so che oggi c'è la partita in bocca al lupo ciao a tutti e a presto